Salve a tutti e benvenuti in questo ultimo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Halo Combat Evolved registrato in 4K e 60fps da PC. Siamo sempre sulla Master Chief Collection ed oggi giocheremo per l'appunto l'ultimo livello di Halo Combat Evolved. Si chiama Fauci. Distruggi Halo prima che annienti ogni forma di vita nella galassia. Sì, perché ora sappiamo la verità. Abbiamo anche il laccio neurale del Capitano Keys che abbiamo trovato nello scorso video. E dobbiamo solo completare la missione. Non dico finire la battaglia perché quello ne è more on death later, diciamo così. L'ultimo livello è anche abbastanza insolito. Ci verranno richieste di fare delle cose abbastanza uniche all'interno del gioco. Vedrete. Ed è anche discretamente difficile. Grazie. Grazie a tutti. 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 Ed eccoci qua. Tra l'altro questo filmato mi ha fatto venire in mente una scena della serie di Halo e mi ha effettivamente fatto pensare che fosse una citazione. Poi useremo gli impianti neurali del capitano per sovraccaricare i reattori termonucleari delle navi. L'esplosione dovrebbe danneggiare i sistemi sotto coperta quanto basta per distruggere l'anello. Capito? Questo dobbiamo fare. Ma non si va. Ma si va di qua invece. Attenzione ovviamente i flood colpiscono. Ci sono sotto anche le sentinelle. Potremmo lasciare che si distruggano a vicenda. Almeno per un po'. Anche per risparmiare magari munizioni. Guardate di quanti punti rossi. Noi siamo... Cioè abbiamo contro tutti eh. Noi abbiamo contro letteralmente tutti. Sia i flood che le sentinelle che i covenant. Ok forse le sentinelle sono morte. No sento ancora dei raggi. Ce la stanno facendo le cari sentinelle? Scendiamo dai. Andiamo a dare un'occhiata. Eh lo sapevo che questo mi aspettava qua. No ovviamente le sentinelle aspettano me. Però ci hanno dato l'arma adatta per distruggerle. Ecco fatto va. Trippate. Addio. Ora da qui escono un sacco di flood vero? No ho sbagliato porta. Mannaggia a me. Era qua che arrivavano i flood. Dammi la tua doppietta grazie. No volevo la doppietta io. Quello è risuscitato. Ma io volevo solamente la doppietta raga. Eccola qua. Grazie. Ovviamente contro il flood doppietta. Assolutamente fondamentale. Oh no. Becca. Ah ah ah. Ok. Altre munizioni per la doppietta. Grazie. Crepate voi. Per favore. Uh la pistola. Pure questa è bella forte. Come arma. Ecco qua. Vai ho visto un'altra doppietta. Altre due doppiette. Ottimo. Noi avanziamo come sempre con calma. Parco la sto cercando di risuscitare un flood. Se non sbaglio questa è una meccanica che ci sarà in allo due. Le forme infettive che risuscitano le forme combattenti. Mi servono più granate però. Ehi. Apriti. Grazie. Facciamo scoppiare tutte le cipolline qui. Abbiamo un bel po' di kit. Uh. Hunter contro flood. Uh. Altro hunter. Cacchio. Mi servirebbe la pistola qui effettivamente. Potrei distruggere gli hunter e i flood in un colpo solo. Cioè gli hunter di sicuro potrei distruggere. Guardate quanto sangue ha perso l'hunter. Per colpa delle forme infettive. Tra l'altro gli hunter se no li sparano non li uccideranno mai. Perché con il corpo a corpo non c'è molto che gli possa fare. L'ha ucciso. Non ci credo ha ucciso l'hunter questo flood. Cioè OP. OP e sfacca ragazzi. OP a merda. La stanno ancora combattendo. Qualcuno ci ha lasciato le penne. Oh no. Oh no. Ok. Esplodi per favore. Minchia che lancio. Ecco. Ammazzate il flood va. Ma quello ha ucciso l'hunter. Ma ha ucciso il suo stesso hunter. Ok bene. Quello muore. Ed è importante che muoia. Via 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 via. Datemi un kit. Grazie. Il problema ora sono quelli lì. in fondo perché tra l'altro sono delle forze speciali. Però abbiamo un bel po' di coperture da sfruttare qui. Per riuscire ad andarli in melee. E tirargli un bel colpo di pompa. Ok. Fuori uno. E fuori due. Ottimo. E ride quel grunt. Fu tutto contento tra l'altro. Non è morto? E si vede che sei delle forze speciali a tu. Crepa va. C'era un altro? Sì. Merda. Porco cane. Per fortuna che non mi ha colpito. Sarai morto. Dammi quest'altro kit va. Ho preso un bel poligranate al plasma. E direi che se non sbaglio si va di qua. C'era anche un kit insomma. Vediamo un po' cosa c'è qui. Sì. Ok. Meglio averlo eliminato questo subito. Crepate va che è meglio. Non è morto? È riuscito pure a lanciare una granata? Fortissimo questo grunt. Il terminale si trova vicino allo schermo principale. Andiamo. Vado via per qualche giorno e guarda cosa succede. Non ci vorrà molto. Fatto. Questo dovrebbe darci il tempo di raggiungere una scialuppa e allontanarci da Elo prima dell'esplosione. Ho paura che sia assolutamente impossibile. Al diavolo. È ridicolo. Mettere in pericolo l'intelligenza artificiale di una corazzata con una tale quantità di informazioni. Non temevi che venisse catturata o distrutta. È nei miei dati. Un'intercettazione. Non hai idea di quanto sia eccitante. Avere un archivio del nostro tempo perduto. Storia umana, vero? Affascinante. Mi gusterò ogni momento della sua classificazione. Pensare che distruggeresti installazione e registrazione. Mi sconvolge. Sono quasi senza parole. Ha interrotto l'autodistruzione. Perché tu vieni a combatterci, recuperatore? Non puoi vincere. Dacci l'intelligenza artificiale e cercherò di rendere la tua morte più indolore e... Ho ancora il controllo sui canali di comunicazione. Dove? Rilevo intercettazioni in tutta la nave. Sentinelle, credo. Vuoto al guardiano. È in sala tecnica. Starà cercando di disattivare il nucleo. Anche se riavviassi il conto alla rovescia, non so cosa fare. Quanta potenza di fuoco ti serve per infrangere lo scudo di un motore? Non molta. Una granata basterebbe. Ma perché? Ok, vengo con te. Capo, sentinelle! Ok, meglio andarsene. Vedete che non abbiamo armi per combattere le sentinelle. Andiamo verso la camera criogena. Poi da lì dovremo riuscire ad arrivare alla sala macchina. Ok. Sala criogena? Dov'è? Ci si orienta un po' a fatica in questa nave tutta e mezza distrutta ormai. Io qua sparo a volontà perché tanto abbiamo munizioni a profusione della doppietta. Guardate quanti sono, cioè. Vai, ricarica. Pam, 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 vai. Tanto qui dovrebbero esserci altre munizioni, no? Ne avevo viste tante di doppiette. Dove sono? Davvero non ci sono. Vabbè, qui ce n'è una. No, non c'è. Ma davvero non ci sono le doppiette, raga? Ma le avevo viste? No, dai, mi sono confuso così. Sembra strano. Qui non ci sono, vero? Ah, eccola qua. Ma non la prende? Ha raggiunto il mass... Ha raggiunto la capacità massima di munizioni. Mi sembra strano, eh. Sinceramente mi sembra molto strano. Vabbè. Qui sono morti tutti. Ah, c'è un hunter. Cazzo, un hunter. Cazzo. Ok, morto. Oh no, quanti siete? Mannaggia voi. E vabbè, poi. Dai, ce la dobbiamo fare. Aia. Ok, mandato. L'ho colpito proprio nel ventre, nel suo punto debole. Ricarichiamo lo scudo e andiamo a colpire l'elite delle forze speciali. Ok. Andatemi, questo è il kit di pronto soccorso. Necessito di questo kit. E proseguiamo. Ehi. Ma cosa fate qua? Mi stavate aspettando? Comitato di benvenuto. Andate ad uccidere gli altri da bravi. Ecco, bravi. Ammazzate le sentinelle, va? Che sono un problema. E appunto. Io mo' come cacchio faccio? Andiamo a prendere l'arma dell'elite un attimo. Elite, dove sei? Mi serve la tua arma. Eccoti qua. Grazie. Secondo, eh. Poi vado a riprendere il mio bel fucile d'assalto. Anche se forse potrei continuare effettivamente con quest'arma. Ecco voi, dovete crepare. Ecco qua, con l'arma giusta. Andate giù che è una bellezza proprio. E comunque questa è adatta anche contro di voi, quindi... Beccatevi. Un po' di colpi. Cipolline. Via. Ce ne sono altre qui, vero? Sì. Mi aspettavano proprio. Mi aspettavano lì. Dai. Bravo. Esplodi. Ma quante siete? Basta sponare, ragazzi. Va bene che... Cioè, ho capito, eh. Che siete interessati, però. Esplodete, grazie. Peccato che non si possa ancora raccogliere la loro arma. Ok, facciamone esplodere uno. Giusto per gradire. Non ho mai usato quest'arma contro le cipolline. Non è molto efficace, in effetti, eh. Questa è la stella criogena. È dove dovevamo andare. Quanti sono qui? Quanta gente è che... Che deve venire? Altre cipolline. Ok. Ah! C'era proprio il tizio che... Aspettava. Eliminiamo le vacche a meglio, questi. C'era un altro, vero? Esatto. Proviamo ad andare di qua, ora? C'è anche uno che mi segue? Dai, esplodi. Bravo. Ora bisogna salire, se non ricordo male. Ecco qua. E infatti qua ci sono altri flood. Altri sentinelle che devono semplicemente crepare. Grazie. Quel flood deve morire, perché mi fa paura lì. Lì in agguato. Vai, sentinelle, occupatevi dei flood. Guardali che arrivano. Fermo di te. Guardali qua, te. Vai, fate saltare la sentinella, grazie. Bravi. E beccatevi una granata. Lì dove non batte il sole. Ecco fatto, esplodete. C'era qualcuno dietro, vero? No, sono sotto quelli, ok. Qui a sinistra, a destra, ci sarebbe stato il terminale. Là arriveranno un bel po' di flood. Guardate il range del fucile a pompa. Non ha alcun senso in allo 1. O.P. O.P. E SPAC. Ecco fatto. Saltate in aria, per favore, va? L'importante è che non arrivino da dietro, poi. Ma sbaglio, continuano ad arrivare all'infinito? Dai, raga. Basta spawnare ora. Il gioco è bello quando dura poco. Ok, forse sono finiti. Vai, salta pure tu. Bravo. Là ne vedo ancora un po' di puntini rossi, ma forse sono sotto. Allora, qui ci sarebbe il ter... No, non ho ancora qui. Ok. Io mi prendo, però, il mio bel fucile d'assalto. Anche se forse un'arma energetica avrebbe un po' più di senso, eh. Per combattere anche le sentinelle, eventualmente. Vai, saltate tutti in aria, bravi. Così magari mi danno un checkpoint. Ma come mai tu non muori mai? C'è sempre qualcuno che rimane in vita. Eh, là volevano saltare in aria, a quanto pare. Qui? Non si va. Ah, si va. Bisogna tornare davvero qua. Qualcosa mi dice di sì. Cos'è questo? Lo spawn infinito di merda? Ok, è finita con qui la musica, quindi qualcosa mi dice che da qui non spawneranno più. Ah, ma c'è anche un bel sovrascudo, eh. Sono stato ricompensato, allora. Per essere giunto fin qui. Guarda qua. Quante belle armi. Guarda, spawnano. Davvero, ancora? Continuano a spawnare. Dai, andiamo via. Che è meglio. Vabbè, finché siete voi. Di qua non si va. Di là si può uscire e di qua no. Perfetto. Come guardate. Vibes da primo livello di Halo. Che facciamo saltare le cipolline. Lifeblood stanno combattendo. I Covenant probabilmente contro le sentinelle che combattono a loro volta contro dei Flood. Vediamo se posso uscire da qua. Ah, un bel kit di pronto soccorso, eh. Ottimo. Vediamo un po' come se la stanno cavando. Ah, contro gli Hunter, ok. No, li lascio fare allora. Fate pure, raga. Dai, vai, vai. Andate. Distruggetevi a vicenda. Io qua ho delle munizioni da risparmiare. Guarda, li incazzatissimi. Ma dove le sentinelle stanno sparando ai Covenant? Ahia. Ma siete stronzi però, eh. Cioè, avete dei nemici di fronte? Sparate a me. Ecco l'Hunter che avanza. Ok. Quello è meglio eliminarlo, va. Che è un pericolo in meno. Carro armato Covenant umano, praticamente, è quello. Guarda le granate che partono. Ah, ora si sono i flood, effettivamente. Non andare verso di me. Vai verso i Covenant. Guardate come ride l'Elite quando ammazza la cipollina. Quello corre con la granata al plasma addosso, va bene. Ok, stanno iniziando a saltare in aria, effettivamente. Gli Elite, a quanto pare, hanno granate infinite. Continuano a spararle. Vai, andate, andate. Non verso di me, andate verso di loro. Bravi. Go, 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 go. Un Hunter è saltato in aria. Eccoli. Vai, ormai stanno distruggendo tutto. I Covenant, non so quanto riusciranno a resistere. Li hanno uccisi? Qualcosa mi dice di sì. Tu sei rimasto intrappolato. I Lali stanno combattendo. E di qui non c'è nulla, ok. Di qui probabilmente era lo spawn infinito dei flood. Vai, esplodi pure tu, bravo. Guarda quanti di questi rimangono incastrati. Che brutta fine. Cioè, beh, alla fine si sta parlando dei flood, eh. Dai, puoi morire ora. Bravo. Hai servito la causa. La ne spawnano altri, vero? Sì, continueranno a spawnare all'infinito. Non se la strada giusta è questa. No, perché ritorniamo qua. Quindi dobbiamo andare ancora più indietro. Questo è meglio eliminarli. Ecco, fatto. E andare via. E basta. E basta. Se arrivano qua, li ammazziamo. No, ok. A quanto pare hanno perso interesse. Proseguiamo, allora. Eccoci. Accendi la miccia e scappa via. Allora, forse di qua c'è l'armeria. Se non ricordo male. No, questa è la sala macchina. Ok. Allora, di qua l'armeria. Vediamo. Il guardiano ha disattivato l'accesso a tutti i comandi. Non possiamo ricominciare il countdown. L'ultima possibilità è far saltare i reattori termonucleari della nave. Questo dovrebbe bastare a distruggere Halo. Non preoccuparti. Io posso accedere a tutti gli schemi e le procedure del reattore. Fidati di me. Prima di tutto, dobbiamo arretrare i giunti di scarico per trovare il condotto che porta al nucleo primario di trasmissione della fusione. E' una buona idea. Ok. Però ci servono delle armi. Ci servono delle armi interessanti. E l'armeria, a quanto pare, si trova un po' più indietro. Da quello che ricordo. Vediamo, eh. Qua abbiamo ancora i flood. Ci sono ancora loro incazzatissimi. No, ok. Si è chiusa la porta. L'armeria è di qua. Eh, mi ricordavo bene, infatti. Qui dentro, però, attenzione perché c'è una cosa abbastanza insolita, eh. Se non ricordo male. Si. Flood invisibili. Flood che hanno preso l'invisibilità. Ok. A me interessa ora prendere delle armi esplosive. Come dei lanciarazzi. Quindi dov'è che sono? Dov'è che è il lanciarazzi? Eccolo. Guardate quanti te ne mettono, tra l'altro, le lanciarazzi. Perché sanno che te ne serviranno un bel po'. A me cipolline non mi fanno paura. Potete anche esplodere. Là, sono rimaste chiuse fuori. Allora, facciamole saltare le cipolline. Così magari ci da un checkpoint. Dai, forza. Bravo. Mi stanno distruggendo tutto il sovrascudo, ma... Dettagli. Ora abbiamo il lanciarazzi. Abbiamo anche il checkpoint qui. Con il lanciarazzi addosso. Vediamo di riuscire ad arrivare su. Allora, noi andiamo. Vediamo cosa riusciamo a fare. Perché qua è un casino. Ci sono anche tantissimi chiedi di pronto soccorso, come vedete. Vedete, è già qualcuno esplodere. Non è una buona cosa. Non è un buon inizio, come direbbe qualcuno. Ma dove sono tutti? Mi sto preoccupando, ragazzi. Cioè, sarà il comitato di benvenuto qui? Esattamente. No, questo non conviene usarlo contro le cipolline, magari. Dai, spawn infinito, ora. Vai. Saltate in aria. Bravi. Anche perché palle però mi distruggete tutto il sovrascudo. Ecco, preferisco sprecare un po' di munizioni per voi. Ah, respawnono però, è vero. Se non faccio in fretta, questi respawnono. È un'altra cosa non particolarmente interessante, eh, in questo livello. Cioè, in generale, è il combattimento contro i flood. Cioè, che loro continuano a respawnare in questo modo è abbastanza ridicolo. Ok, siamo in cima. Qui, tra l'altro, dovrebbero uscire le sentinelle ad un certo punto. Eccolo lì. Aia. Eccoci qua. Vai, apriti. Apriti, per favore, perché sto già crepando. Apriti. Apriti. Oh. Ok. Boom. Distrutto. Ed ora, scappare. Mi serve un kit di pronto soccorso. Ora vado a prenderlo. Era al primo livello, vero? Giù, giù, giù. Non rompere il cazzo. Voglio solo il mio kit di pronto soccorso. Ecco qua. Vai, salta. Salta, bravo. Salta pure tu. Salta. Ehi. Salta. Bravo. Grazie, datemi le munizioni, tu. Vabbè, senti. Esplodete, per favore. Voglio solamente salire. Dammi le munizioni, grazie. Crepa pure tu. Via. Avete ucciso le sentinelle, voi? Vi ho lasciato qui apposta. Ok, le sentinelle sono morte. Il guardiano è lì intanto. Possiamo spararli, ma non gli faremo alcun danno. Via, 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 via. Ok, vai. Apriti. Apriti, per favore. Please. Apriti. Grazie. È esploso? Non è esploso. Meglio, devo spararli. Ok. È esploso. Sapete che non ho visto? Porco cane. Ma tu hai bisogno di... Riparazioni e revisioni. Fammi salire qui, mannaggia. Ok, ne rimangono solo due. Dall'altra parte. Andiamo. Fuori tutti. E via. Via, 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 via. Basta, sentinelle. Avete rotto le palle. Vai, apriamo questo. Fermo lì, te. Sì, voglio distruggere tutto. Tutto distruggo. Vai, apriti. Boom. Dentro. Ottimo. No! Sono caduto. Porco cane. Ce l'avevo in pugno. Eh sì, ne resta solo un altro. Come vedete, questa è una cosa molto insolita. Rispetto alle altre cose che ci hanno chiesto di fare. Inalo. Fermo di te. Esplodi, per favore. Esplodi, grazie. Vabbè, ma vaffanculo, va. Ecco, ora se mi si attacca una di queste sono morto. Via. Voglio solamente passare, ragazzi. Ecco qua. Hop. Su. Bene. Ok. Tu rompi il cazzo. Via. Bene. Vai, apriti. Apriti sesamo. Dentro. Ok. Distrutto tutto. Hop. E ce ne andiamo. Via. Uff. Non abbiamo molto tempo. L'abbiamo fatta. È di qui? No. Non è di qua. C'è un accessore sopra la sala macchina. Porta a un corridoio di servizio classe 7 che corre lungo il dorso della nave. Presto. Dov'è? Dall'altra parte. Mannaggia. Devo correre. Eliminare questi flood prima che mi facciano male. E andare via. Ok. Avevo solo sbagliato lato. Eccoci qua. Ho ancora il mio bel lanciarazzi, tra l'altro. Aia. Che botta. Comitato di benvenuto? No, grazie. Quello, è rimasto in vita. Beh. Ammiro la tua tenacia, Elite. Ammiro davvero la tua tenacia. Tra l'altro, forze speciali. Forze speciali a darci il benvenuto. Cortana, ECO 419. Rispondi, ECO 419. Ricevuto, Cortana. Ti sento forte e chiaro. Foemer, i motori della pila robot che stanno arrivando al punto critico. Richiedo estrazione immediata. Avvicinatevi al luogo dell'incidente e prelevateci all'accesso esterno 4C appena ricevete il mio segnale. Ok, ECO 419 verso posizione. ECO 419 a Cortana. Ti sente molto rumore. Va tutto bene? Negativo, negativo. Il nucleo di fusione della nave si sta destabilizzando. I motori devono essere più danneggiati di quanto credevamo. Analisi. 6 minuti all'esplosione del nucleo di fusione. Necessaria evacuazione immediata. Attivazione timer per conto alla rovescia finale. Allo zero i motori esploderanno, generando una temperatura di 100 milioni di gradi. Allontanatevi in tempo. E mo' bisogna scappare. Se solo... Se solo mi fosse consentito. Ok. Facciamolo meglio. I motori devono essere più danneggiati di quanto credevamo. Analisi. 6 minuti all'esplosione del nucleo di fusione. Necessaria evacuazione immediata. Attivazione timer per conto alla rovescia finale. Via. Zero i motori esploderanno, generando una temperatura di 100 milioni di gradi. Allontanatevi in tempo. Cacchio, qui bisogna ricordarsi però un po' meglio com'è il pattern di queste cose. Di questa sala. Ecco, qui ho voluto andare un po' più forte per evitare le esplosioni di quelle forme portatrici che mi avevano spaventato. Per fortuna siamo tipo invincibili sul Warthog. Quasi invincibili. La fisica vince sempre, ricordatevelo. E perlomeno, per quanto riguarda il tempo, ce n'è abbastanza. Cioè, non bisogna andare, non bisogna essere proprio perfetti, eh, per farlo. Ok. Qui magari. Vabbè, ma che palle. Guarda quanto si guida male sto coso. No, devo andare di là. Ah no, di qua va bene, di qua va bene. Ah, mi sa che ho perso. Più che altro perché mi ammazzano le sentinelle. Non tanto per il tempo. Forse anche per il tempo a questo punto, eh. Ci sto mettendo tre anni. Una delle Warthogran più brutte che io abbia mai visto. Fantastico. Di qua si potrebbe prendere una scorciatoia. E sbuccavate da questa parte. Sì, questo serve per... Proprio per le speedrun, eh, cioè. Ecco qua. Così va meglio. Ecco come vanno superate le sale, eh. E si procede. No, no, non vedi nessuno tu. Non vedi proprio nessuno. Qua arriva pure una nave dei Covenant. Oh, scatta la ghicchia. La ghicchia scatta. Non so cosa stia succedendo. Ok. Ah, l'ha ghicchiato un po'. Però proseguiamo. Eccoci qua. Aia. 419, due Banshee dei Covenant in avvicinamento a ore 6. Tira, cambia rotta. Ripeto, tira. Sono stata colpita. Emergenza, emergenza. Non la controllo più! Non la controllo più! Ecco 419. Scomparsa. Calcolo rotta di fuga alternativa. L'inventario indica un caccia Longsward ancora fermo nella zona di lancio 7. Se ci muoviamo ora possiamo farcela. E allora andiamo. Muoviamoci. Chiederemo. 20. Cuomo. 9. 21. 23. 24. Who. 25. 22. 25. Alla massima velocità dovremmo riuscire a passare E allora andiamo Facciamo questo salto della fede Ok Non è andato molto bene il salto della fede Ma purtroppo questo salto è fatto molto male Inalo Quindi è già tanto che siamo rimasti in vita Ora prendiamo la rincorsa Perché tecnicamente il salto Da fare alla massima velocità Dovrebbe essere questo Questo qui che arriva adesso Questo qui Ecco ma il salto che c'è prima C'è l'aria in corsa che bisogna prendere E' fatta abbastanza male Cioè non è fatta abbastanza male in sé E' fatta male per il modo di guida Che ha questo Warthog Eccoci andiamo Via Non ti voglio Mi ha fatto saltare uno E andiamo Non dobbiamo sbagliare Ecco fatto E' fatta abbastanza male in sé E' fatta abbastanza male in sé E' fatta abbastanza male in sé Spegniti Ci serviranno dopo Vuoi dare un'occhiata? Vuoi dare un'occhiata? Qualcun'altro ce l'ha fatta? Scansione No, solo polvere ed ecchi Tutto ciò che resta siamo noi Noi abbiamo fatto il nostro dovere per la Terra Un'intera armata dei Covenant Cancellata E i fruit Non abbiamo avuto scena Pelo E' finita No Io credo che sia solo l'inizio Non abbiamo avuto scena E abbiamo finito Halo Combat Evolved Peccato che non ci siano i titoli di coda Non so per quale motivo abbiano scelto di cancellarli Però vi devo anche far presente che non avete visto il finale a leggendario Perché, come immagino la maggior parte di voi saprà In ogni capitolo di Halo, se si completa la campagna a difficoltà leggendari Ovvero la massima difficoltà Si ottiene un piccolo extra nel filmato finale Che può essere talvolta di trama, talvolta una cosa divertente Ecco, in questo caso è una scena divertente, comica E che non è nemmeno canonica Se volete la potete tranquillamente recuperare su YouTube Cercando Halo Legendary Ending Halo Combat Evolved Legendary Ending E vedrete che c'è, oltre al filmato che abbiamo visto noi Nel mezzo c'è una scena che non abbiamo visto Che riguarda il Sergente Johnson Però per l'appunto non è canonica Quindi è solamente una scenetta divertente così tanto per E' carina, fa il suo dovere da scena comica Per ribadire il tono che ha questo Halo Combat Evolved Che non vuole assolutamente prendersi sul serio E' un videogioco molto cazzone Per poter dire una parola così molto forte E' un tono, per l'appunto, non è serio E' serio ciò che gli sta attorno La mitologia di Halo Quella è molto seria Anche il fatto che Master Chief dica Essere all'inizio, alla fine del gioco E' una frase un po' cliché, questo è vero Ma è anche la verità Perché loro nel frattempo avevano già in cantiera un altro libro Avevano in cantiera il sequel Insomma, avevano un bel po' di roba Interessante da mostrare E la mitologia piano piano si costruiva Detto ciò, la serie finisce qui Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto Di commentare E di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti Da Glashar Sphere è tutto Ci vediamo su Halo 2